Ciao a tutti ragazzi di Zanax e oggi andiamo a Rofiera Siamo arrivati a Rofiere, c'ho davanti due mongole che avevano fretta di andare Quindi le altre probabilmente le vedrete più avanti Al momento c'è gente relativamente, probabilmente saranno già tutti dentro Adesso stiamo andando in America a vedere un pochino cosa c'è E appunto dopo vedo di riunirmi con tutte le altre della classe E vedere di fare un piccolo video Almeno facciamo salutare anche loro E basta, ci vediamo tra poco, bella Ciao a tutti Ciao a tutti Questa è la situazione ragazzi, prendiamoci conto Ciao a tutti Ciao a tutti E' impressionante come in ogni patiglione in cui andiamo ci interessiamo solo del cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Sì, in Siria guarda, sono stronzate e io e Lara cerchiamo il cibo Buono? Buono? Lara cosa ne pensi? Ciao, grazie Ciao, grazie 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 Bruno, giudi sta roba Ci ho messo un'ora per aprirla, ti prego Un pacco in due Cleister Saluta Solar Xed e compagnia Che a un gigabyte può scaricare Se hai due mega come me, non scaricare un cazzo Ma soprattutto supporta il creatore, UFO, mi raccomando UFO, giù, 98, brrr Mi raccomando C'è Martina là in fondo, Martina saluta Fai ciao E di supporta il creatore, UFO, giù, 98, brrr No, basta Professoressa, ma dov'è andata tutto questo tipo? OleElEl Sì eh No, no Ma stili tardi? Stili tardi signorine? Ci siamo tutti meno tre! Ciuccia, ciuccia, ciuccia! Si sente la musica? Senti il set che suona, da barista agli geni. Allora vai tranquillo! Grazie a tutti! è il Virgilio quello lì, ma io quello lo conosco ma quello che fa le tante della vita è quello che fa ma che dobbiamo fare dai Virgilio levati dai coglioni amici il video finisce qua io vi invito a lasciare un like di iscrivervi al canale, attivare la campanellina commentatevi lascio un paio di slide di foto che abbiamo fatto quindi noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi iscriviti al canale